Musica Prima edizione del nostro telegiornale bentrovati. Oggi è il 10 aprile e apriamo il nostro notiziario parlando di una delle vittime dell'esplosione avvenuta all'interno di una centrale idroelettrica nel Bolognese. C'è uno strazio a Sinagra, città dalla quale era partito. Vincenzo Franchina, 36 anni, lascia la moglie sposata. Un anno fa è un bimbo di appena tre mesi. Il suo ricordo di chi lo conosceva bene è su tutti il sindaco. Nino Musca, il servizio. Si era sposato lo scorso anno e da pochi mesi aveva un bimbo che non vedrà tornare suo papà. Una tragedia immane, quella che ha colpito i familiari di Vincenzo Franchina, originario di Patti nel messinese ma residente a Sinagra, con lui i periti nell'esplosione avvenuta ieri. Nella centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviano, nel Bolognese, anche il rumeno Petronel Tanase, di 45 anni, di 7 motorinese, e Mario Pisano Tarantino, di 73 anni. Franchina è la vittima più giovane, 36 anni. Si era diplomato all'Istituto Statale Torricelli di Sant'Agata di Militello. Era un elettricista industriale, una figura specializzata, nessuna delle tre vittime. Era dipendente di Enel Green Power, che gestisce l'impianto. Vincenzo era un bravissimo ragazzo, racconta un amico della vittima siciliana. Un anno fa aveva preso la sua valigia e aveva lasciato la sua Sicilia, perché voleva lavorare, per le vacanze tornava sempre. Straziati dalla notizia, gli abitanti di Sinagra, il sindaco Nino Musca stenta a trattenere le lacrime. Conoscerci personalmente in una comunità come la nostra, di 2.500 anime, è semplice. Frequentava la scuola dove io qualche anno fa ero docente, talvolta è capitato pure che tornasse con me a casa da Sant'Agata Militello e spesso lo incontravo per i corridoi. Questa persona schiva, sempre sorridente, gentile ed educata. Grande lavoratore come denominatore comune di tutta la famiglia. Lei aveva sposato Vincenzo qualche mese fa. Ho avuto questo privilegio di poterne celebrare il matrimonio civilmente ed è una cosa quando ti ritrovi un giovane che in qualche modo che hai incontrato per altre vie durante il percorso di vita è sempre bello. Vincenzo è stato bello poterlo celebrare con una conenza, con questa altra persona per bene, originaria di una comunità limitrofa, di qua, di Racuia, anche lei proveniente da una bella famiglia. Sono persone per bene, persone come ho avuto modo di ripetere, particolarmente educate, gentili, cosa che oggi non è così comune. Perdere un giovane, una persona, un cittadino in questa maniera poi per noi è doppiamente triste. È già brutto perdere, che la gente vada via con incidenti sul lavoro, i caduti sul lavoro, che debbano perdere la vita, questi caduti sul lavoro, che quel lavoro sono andati a cercarli o altrove, lontano da casa, è una doppia tristezza. Incontrare la famiglia oggi a distanza, che si rimette nelle mani di chi sta procedendo con questa triste ritualità delle indagini, delle salme sequestrate, e vivere tutto questo ancora a distanza è ancora più brutto. Ed è dedicato proprio a Vincenzo Franchina, lo sciopero organizzato per domani a Messina, nell'ambito della mobilitazione generale articolate in quattro ore per tutti i settori privati e di otto ore per l'edilizia, ha proclamato per rilanciare il tema della salute e sicurezza per una giusta forma fiscale e per un nuovo modello sociale di fare impresa. Lo rendono noto i segretari generali di CGL, Will Messina. Proclamerete il lutto cittadino, sindaco? Certamente sì, è un piccolo segno, ma come in questi casi poco o nulla si può fare, se non lasciare dei segni che possano valere, per quanto potranno valere, come monito per il futuro. Un 29enne, Gaetano Fiammingo, residente ad Accireale, d'ex portiere dell'Accireale, calcio a 5 ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, attorno alle 22.30, lungo la via Livorno, in territorio di Acci Castello. Fatale l'impatto tra la Yamaha, sulla quale il giovane si trovava, ed un'auto, una Honda HR. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Acci Castello e della radiomobile della compagnia di Acirale intervenuti sul posto. Lo scontro non ha lasciato scampo a Fiammingo, che è morto sul colpo nonostante indossasse il casco protettivo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il leso, ma in stato di sciocco, il conducente dell'auto. L'incidente si è verificato lungo il rettilineo, che congiunge la frazione di Acci Trezza con Acci Castello. Parliamo di emergenza siccità in Sicilia. Il governatore Schifani predispone una cabina di regia con al vertice Salvatore Cocina per fronteggiare la grave crisi idrica. Dopo la diffusione dei dati allarmanti inerenti alla crisi idrica, il presidente della regione, Renato Schifani, cerca di ricorrere ai ripari. Per scongiurare il rischio di lasciare i cittadini senza acqua, il governatore ha messo su un pool di tecnici specializzati. Schifani, dopo aver sentito il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ha istituito una cabina di regia per fronteggiare l'emergenza idrica. La struttura, che avrà il compito di individuare, stimolare e coordinare gli interventi più urgenti e indifferibili per mitigare gli effetti della crisi, sarà guidata dallo stesso Schifani e coordinata dal capo della protezione civile siciliana, Salvo Cocina. Questa decisione arriva dopo le frizioni delle scorse settimane tra il governatore e i dirigenti del settore. Non è un caso che, a restare fuori dal gruppo operativo, sono il dirigente a capo della struttura commissariale per la siccità, Dario Cartabellotta, e il dirigente dell'autorità di Bacino, Leonardo Santoro. Del pool di esperti, coordinato da Cocina, faranno parte inoltre il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, Duilio Longi, l'avvocato generale della regione, Giovanni Bologna, Mario Cassarà del Dipartimento Acqua e Rifiuti, Antonino Granata dell'autorità di Bacino, Giorgio Domenico Micale, docente di chimica all'Università di Palermo, Rosario Mazzola, ex professore di costruzione idraulica, anni fa a capo dell'AMAP, poi Enrico Foti, ordinario di idraulica, all'Ateneo di Catania, Salvatore Barbagallo, professore di idraulica agraria, sempre a Catania, e infine Salvatore San Martano, capo di gabinetto di Schifani. Gli assessori all'agricoltura, l'energia, le infrastrutture della regione potranno partecipare alle riunioni della struttura. Ancora non si conoscono i dettagli, le strategie che metterà in campo la cabina di regia. Contattato telefonicamente dalla nostra redazione, l'ingegnere Coscina ci ha riferito stamattina di voler incontrare tutte le parti coinvolte prima di esprimersi sul lavoro da intraprendere mirato a contenere gli effetti negativi della crisi. La drammaticità dell'emergenza siccità viene descritta nel verbale dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici che fa capo all'autorità di Bacino. Nel documento redatto nella seduta di fine marzo viene delineata in maniera chiara e precisa la situazione. A Palermo c'è acqua solo per altri nove mesi se dovesse continuare a non piovere, considerando oltretutto che adesso ci si avvia alla stagione meno piovosa dell'anno. Questa la fosca previsione da prendere sul serio paragonabile solamente alle crisi del 2002 e del 2018. Considerando i volumi immagazzinati nei quattro invasi, si legge nel verbale, si può garantire il fabbisogno per i soli usi potabili fino a gennaio 2025 solamente a patto che l'acqua venga usata soltanto per i rubinetti delle abitazioni private, degli ospedali, delle scuole, degli uffici pubblici e delle altre attività ricettive, escludendo dunque gli usi irrigui se le condizioni meteo dovessero confermare l'assenza di piogge abbondanti nel breve termine. Questo dunque l'orizzonte che attende il capoluogo dell'isola in città, già dallo scorso venerdì, è scattato il piano d'emergenza AMAP che prevede la riduzione della pressione in alcuni quartieri. Oltre Palermo, la crisi idrica tocca particolarmente le province di Caltanissetta, Enna e Agrigento. L'emergenza che stiamo vivendo, ha detto il presidente della regione, è severa qui come in altre regioni non solo italiane, ma insieme col governo nazionale stiamo mettendo in campo tutte le misure necessarie, anche per risolvere problemi mai affrontati prima. Ci stiamo impegnando al massimo e i risultati si vedranno. E adesso con Francesco Larosa facciamo il quadro della situazione meteorologica con un clima fuori norma anche nei prossimi giorni. Solo un momentaneo abbassamento delle temperature che farà poi da preludio ad una caldissima primavera-estate. Un inverno che non può davvero ritenersi tale è quello vissuto in questo primo scorcio della 2024, ma anche nelle finali del 2023. Temperature ben al di sopra della media, con scarse precipitazioni piovose, che hanno determinato anche un concreto pericolo siccità. E l'altalena meteorologica è destinata a perdurare, con le temperature che scenderanno anche sino a 10 gradi in meno, per poi tornare su punte elevate, addirittura di 30 gradi, in occasione del prossimo weekend. Anche il centro-sud potrebbe essere accompagnato da maltempo, a fasi sporadiche e non certo continuative. Da domani il caldo nordafricano tornerà a fare capolino su tutta la penisola e quindi anche sulla Sicilia. Non mancheranno raffiche di vento, con qualche velatura del sole, che non farà però diminuire le temperature. Una situazione davvero strana per questo periodo dell'anno, in cui un tempo si era abituati ad un clima maggiormente temperato, in vista della bella stagione. Adesso invece tutto sembra essersi capovolto, con una costanza che si è ripetuta anche in questi ultimi anni. Le previsioni sono quelle di un'estate alla quale andiamo incontro, con caldo torrido similare a quella dello stesso periodo del 2023, con tutto ciò che ne può scaturire, cioè l'incombente siccità che continua a flagellare l'isola e la pericolosissima mannaia degli incendi, che rievocano quella tragica giornata del 25 luglio dell'anno scorso. Restiamo in argomento perché è stato pubblicato il decreto regionale di ristoro a favore di quanti hanno subito danni dagli incendi, proprio dello scorso 25 luglio. Sono 2,9 milioni di euro per i territori interessati. Nell'accese i danni maggiori sono stati registrati nel comune di Acicatena. Salvo Cutuli. Sbloccati i fondi a sostegno di quanti hanno subito danni dal devastante incendio dello scorso 25 luglio, che ha incenerito campagne, aziende e abitazioni della Cese, da Palermo la comunicazione degli stori economici e gli eventi di ritto, fino a 50 mila euro per le prime case, stanziati 2,9 milioni di euro a fronte dei violenti incendi sviluppatesi nel territorio di Acicatena, coinvolgendo soprattutto le frazioni di San Nicolò e Bampolieri, quantificati dall'ufficio tecnico di svariati milioni di euro. Per attingere i fondi della protezione civile occorre compilare una scheda tecnica con l'ausilio di un professionista e inoltrarla al comune. Nei prossimi giorni verrà pubblicato l'avviso con i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo. Intanto la sindaca di Acicatena, Margherita Ferro, commentando le notizie dei fondi per i guasti causati dagli incendi dello scorso mese di luglio, ha firmato un'ordinanza di scerbatura e pulizia dei fondi agricoli indirizzata ai proprietari terrieri con largo anticipo rispetto agli anni precedenti, proprio per prevenire possibili roghi in vista della prossima estate, che secondo le previsioni degli esperti sarà piuttosto torrida. Tutti i comuni, grazie a tutti i sindaci che siamo stati oggetto teatro degli ingendi del 25 luglio del 2023. Acicatena ha subito tantissimo, il mio territorio è stato ferito da un ingendio furioso sia nella frazione di Acisan Filippo, nella frazione di San Nicolò e la frazione di Vampolieri. Gli danni nostri sono ingendi, ora con il ristoro di 2,9 milioni di euro possiamo dare delle risposte certe a quelli che sono i privati, non solo il comune ma anche i privati che hanno subito dei danni. Quest'anno ci siamo mossi velocemente, abbiamo già fatto l'ordinanza per quanto riguarda la pulitura dei giardini e di tutte le zone a verde. Il comune, ieri abbiamo incardinato una tax force fatta dal disaster manager, l'ingegnere Grassi, il dirigente del nostro ufficio della protezione civile, l'ufficio manutenzione, la polizia municipale e anche le associazioni di volontariato soprattutto per l'avvistamento degli ingendi. Abbiamo redatto quello che è un programma di lavori e un programma di modo che tutti dobbiamo essere allettati, anche la popolazione sarà coinvolta in questi nostri lavori perché abbiamo visto che il 25 ci ha trovati disarmati e abbiamo agito e grazie a Dio tutta la popolazione, tutti abbiamo collaborato. Invece ora, visto che noi andiamo incontro, purtroppo perché è un problema di ecologia, è un problema anche di siccità. Io allora diedi l'allarme per quanto riguarda il problema degli ingenti, era anche un problema di siccità che io riscontravo all'interno dei nostri terreni agricoli. Devo dire che la Regione, anche con Luca San Martino, si è mosso per quanto il Presidente della Regione, si sono mossi per quanto riguarda il contrasto e la siccità, io ho fatto una delibera di giunta e ho impegnato anche il Consiglio Comunale a poter agire su questo perché i territori hanno bisogno di acqua e l'acqua non può essere sicuramente pagata a 1.200 euro, ma si deve trovare una strategia e pare che un tavolo tecnico incardinato insieme agli altri comuni, stiamo cercando di trovare una soluzione. A Palermo la Guardia di Finanza, in due distinte operazioni, ha scoperto due centrali dello spaccio. Nel corso della prima operazione messa a segno dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con l'ausilio del fiuto del pastore olandese Anouk, i militari hanno scovato dentro un casolare disabitato, nel quartiere Ballarò, 13 panetti di hashish da circa 100 grammi ciascuno, nascosti dentro il vano destinato all'alloggiamento del contatore idrico. Lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 10.000 euro. Le fiamme gialle stanno svolgendo degli approfondimenti con l'obiettivo di individuare l'utilizzatore del sito. Da una prima analisi sulle modalità di confezionamento e conservazione dei panetti, tutto sembrerebbe ricondurre a un grossista della piazza di spaccio. Poco dopo, i baschi verdi del gruppo pronto impiego hanno proseguito i controlli antidroga nella zona della stazione centrale, da sempre crocevia di traffici illeciti tra il capoluogo siciliano e le province adiecenti. In questa seconda attività di prevenzione, un ruolo importante lo ha avuto il pastore tedesco Nico. Grazie all'intuito del cane antidroga, i militari delle fiamme gialle hanno perquisito un 22enne palermitano. Il giovane è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish. I finanzieri, dopo aver accertato che il 22enne aveva già dei precedenti penali per spaccio, è scattata anche la perquisizione nella sua abitazione, nel quartiere villaggio Santa Rosalia. La tempestività dell'intervento dei militari ha consentito di rinvenire 10 panetti di hashish, materiale da confezionamento e 23 dosi già pronte per la vendita. Il ragazzo è stato quindi arrestato. L'operazione delle fiamme gialle, fanno sapere dal comando provinciale, è risultato dell'efficacia del controllo economico del territorio, assicurato dalle pattuglie su strada e del dispositivo permanente approntato per la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, assicurato anche attraverso l'utilizzo di unità cinofile specializzate. E adesso parliamo della festa della polizia con il motto esserci sempre anche a Catania. Si celebra il 172esimo anno dalla fondazione Il Questore. Giuseppe Bellassai ribadisce il rapporto tra il poliziotto ed il cittadino per una rinvigorita relazione con tutta la comunità al cui servizio la polizia opera e per la cui tutela esiste. Mario Grass. Agire insieme e stare sullo stesso fronte non bisogna separarsi, anzi bisogna rinverdire il rapporto tra il cittadino e la polizia di Stato. Questo è il messaggio che risuona in tutta Italia nel 172esimo anniversario di fondazione della polizia di Stato. Esserci sempre, questo è il motto della polizia, è esistere dando corpo ai valori che costituiscono il senso di quella stessa esistenza. A Catania, la festa solenne in presenza delle massime autorità provinciali e cittadine durante la quale, tra la parata e i riconoscimenti consegnati in teatro, la polizia conferma l'impegno quotidiano vissuto alla luce dei valori che animano la stessa polizia di Stato in una rinvigorita relazione con tutti i cittadini al cui servizio la polizia opera e per la cui tutela la stessa polizia esiste. È una giornata che vogliamo dedicare alla città di Catania, alla collettività catanese, a rinsaldare il nostro rapporto tra noi della polizia di Stato e i cittadini. I numeri dello scorso anno parlano chiaro, sia quelli che descrivono l'attività amministrativa che gli altri, forse quelli più visibili, dell'attività repressiva. 2.500 quelle denunciate in Stato di libertà, 630 perquisizioni, poi 177 avvisi orali, 85 kg di sostanza stupefacente sequestrati, 527 armi ritirate, 153 decreti di espulsione, 17.829 gli stranieri accolti. Di attività in più settori, con una produttività assolutamente riguardevole da parte della polizia di Stato. Sia nel contrasto al crimine organizzato, sia nel contrasto alla criminalità comune, sia nell'attività di prevenzione dei reati a tutto tondo. L'impegno è massimo da concertare con le strutture a disposizione. A noi tocca, e stiamo cercando di farlo già da qualche mese, il compito di dare maggiore sicurezza ai catanesi e di fargli percepire meglio la sicurezza che hanno a disposizione. Stiamo rendendo strutturali alcune iniziative che avevamo intrapreso già alla fine del 2023. È cominciato bene perché tra il 19 marzo ed ieri la squadra mobile ha operato due attività importantissime riuscendo a sottoporre a provvedimenti ristrettivi 70 persone. Quindi è sicuramente iniziato nel modo migliore. Chiaramente siamo ancora ad aprile. Quello che abbiamo fatto in questi mesi lo dobbiamo assolutamente migliorare. Il nostro faro sarà sempre il cittadino. Una commissione di inchiesta sui tanti, troppi suicidi in carcere. A chiederlo è la Camera perale di Catania, ipotesi di lavoro che nelle ultime ore trova la sponda della ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Ancora Grasso. Troppe carcerazioni da un lato, la riforma della cautela letteralmente fallita, dall'altro lato, con la maggior parte dei detenuti in attesa di giudizio che dovrebbero invece restare ai domiciliari. Dunque tempo di una commissione di inchiesta. Lo afferma in una nota la Camera Penale di Catania, Serafino Famà, che chiede una celere e seria rimodulazione del sistema anche per fermare il fenomeno sempre crescente dei suicidi in carcere, oltre 30 dall'inizio dell'anno. Decessi all'interno delle strutture penitenziarie, in molti casi con condizioni di vivibilità assurde. E da quarto mondo, segnalano i penalisti etnei, che ripetono come l'indignazione per il caso Salis in Ungheria abbia portato l'opinione pubblica a chiedersi il perché. Ma non esiste solo la Salis, dovremmo guardare un po' a casa nostra, spiegano i penalisti etnei. Terribile il dato dei suicidi, più in generale delle morti in carcere. Quali le cause? Difficile determinare una piuttosto che l'altra. Strutture fatiscenti, sovrappopolate, la gestione sanitaria. Quest'ultima sostanzialmente assente per coloro che hanno problemi di natura psichica, per i quali l'unica soluzione è la prescrizione di psicofarmaci con l'aumento dello sviluppo delle dipendenze. Da qui la richiesta di una commissione di inchiesta sui suicidi. Si tratta di una tragedia nazionale. Siamo ai primi mesi dell'anno, sono oltre 30 i suicidi in carcere. Purtroppo questo numero è destinato ad accrescersi. Ci sono problemi di disfunzionalità organizzative, ci sono questioni che riguardano troppe incarcerazioni, ci sono problemi di gestione del detenuto e soprattutto i processi per i quali molti si trovano in custodia cautelare, mentre potrebbero sicuramente trovarsi ai domiciliari. Ora vi dico questo, noi abbiamo chiesto un'indagine approfondita su questi fenomeni, in particolare su questo, perché noi crediamo che una conoscenza compiuta di questo fenomeno possa contribuire ad evitare che si possano moltiplicare questi suicidi. E sulla vicenda i penalisti trovano una sponda autorevole, quella dell'Associazione Nazionale Magistrati. Il 23 di aprile, le notizie proprio di poche ore fa, l'Associazione Nazionale Magistrati e l'Unione delle Camere Penali avranno un incontro congiunto e quindi si terrà questo incontro dopo tanto tempo per la prima volta, in quanto l'Associazione Nazionale Magistrati ha manifestato l'intento di collaborare continuativamente per affrontare il tema delle tragedie carcerarie e addirittura vi è una consistente apertura verso la proposta Giacchetti sulla liberazione anticipata e verso altre forme che possono in qualche modo agevolare lo svuotamento delle strutture penitenziarie. Avvocato, è un'apertura importante e significativa? Significa che il tema che avete sollevato e di assoluta primaria importanza? Sicuramente, è un'apertura che rende merito a chi in questo momento si sta occupando dell'associazionismo e dell'Associazione dei Magistrati e di chi in questo momento combatte nella Unione delle Camere Penali per raggiungimento di certi obiettivi di legalità, di trasparenza e di libertà. Dico che l'incontro in questo momento storico è fondamentale perché soltanto attraverso questa rinnovata collaborazione che mi auguro possa essere protratta nel tempo e densa di contenuti utili si possa arrivare ad una soluzione progressiva di questa tragedia nazionale che è sotto gli occhi di tutti. Ad un anno e mezzo dalle amministrative a Mascali nove consiglieri comunali di opposizione sui sedici totali hanno presentato un documento collettivo di dimissioni dunque il Consiglio Comunale di Mascali decade e rimangono in carica solo il Sindaco e la Giunta fino alla naturale scadenza del proprio mandato. Il ruolo del Consiglio verrebbe affidato ad un commissario della Regione. I consiglieri di opposizione che hanno presentato le dimissioni sono Barbarino, Agata Cardillo e Giuseppe Cardillo, Finocchiaro, Lemura, Nigri, Portogallo, Scandurra e Tropea. Nel documento si motiva la decisione per il fatto che il comune di Mascali è allo sbando e sono venute meno le condizioni per espletare in maniera dignitosa il proprio mandato sino alla naturale scadenza. Parliamo adesso della conferenza europea dei cetacei al Via Catania la tre giorni della 35esima edizione che fa incontrare scienziati provenienti da tutto il mondo. La 35esima conferenza europea sui cetacei ha ospitato le ciminiere di Catania con scienziati provenienti da tutto il mondo impegnati nella conservazione degli oceani e delle specie che li abitano. La tre giorni al Via da Oggi ha riunito ricercatori ed associazioni che operano a livello globale nella ricerca e protezione delle varietà ittiche. L'apertura della sessione odierna a cui si riferiscono le immagini ha richiamato a Catania i maggiori esperti del settore tra biologi marini, enti ed associazioni impegnate nella protezione dei mari. Da qui dipende il futuro dell'umanità. L'evento, organizzato da Mare Camp, l'associazione impegnata nella protezione dell'abitat naturale di cetacei sia stanziali sia di passaggio studiati e mappati. Dalle balenottere e delfini recentemente avvistata anche una megattera e una foca monaca una volta presenti in gran numero in Sicilia. La conferenza riunisce scienziati provenienti da tutto il mondo impegnati nella ricerca e protezione delle specie che popolano le varie nazioni mettendo insieme esperienze e scambiandosi informazioni si alimenta una rete virtuosa a difesa della biodiversità marina. La conferenza catanese ha ottenuto il patrocinio delle maggiori organizzazioni mondiali a difesa degli abitanti del mare con un focus sui cetacei a rischio non solo balene ma anche tutte quelle altre specie che popolano gli oceani e il Mediterraneo e che per certi aspetti si è trasformato in un annulsere dei giganti del mare dal Golfo di Catania popolato da molte specie marine stanziali di passaggio da proteggere. Dario Garofalo è il presidente dell'associazione Marecamp. È intanto un riconoscimento di Marecamp a livello internazionale ci siamo abbattuti tantissimo per far riconoscere il nostro Golfo e finalmente questa è diciamo la mattonella che mancava. Per la biologa Marina Clara Monaco responsabile scientifica dell'associazione Marecamp la conferenza europea sui cetacei a Catania è il riconoscimento del lavoro svolto nel corso degli anni tra ricerca e attività di monitoraggio. Nel Golfo abbiamo addirittura sei delle specie regolari di tutto il Mediterraneo dai delfini comuni il Tursiope che è una specie costiera, la Senella che è una specie un po' più pelagica così come il Capodoglio invece per parlare dei più grandi e le balenottere comuni che migrano. Oltre a questi comunque il Golfo rispetto invece ad altre aree del Mediterraneo ospita anche il passaggio di ulteriori specie normalmente più rare come le Pseodorche o mammiferi marini come la Focamonaca e di recente abbiamo avvissato anche una Megattera quindi questo fa del nostro Golfo un vero e proprio hotspot di biodiversità da tutelare dove sappiamo che però l'impatto antropico è abbastanza forte dovuto alla sovrappesca al traffico marittimo così come a tutti gli inquinanti di tipo chimico fisico acustico quindi la nostra attenzione è nel monitoraggio quindi capire qual è lo stato di salute di questi animali e verificare anche nel tempo le variazioni ad esempio ci sono alcune specie che noi ultimamente avvissiamo in maniera un po' meno regolare e anche in gruppi più ridotto soprattutto il Tussiope o addirittura c'è una specie come le Grampio che non vediamo da qualche anno questo per noi è un campanello d'allarme ed è quello che ci ha fatto decidere anche il tema di questa conferenza che richiama la stessa problematica in tutto il mondo che è proprio la sostenibilità delle aree costiere adattate a quelle che sono appunto l'habitat marino nel quale sussistono contemporaneamente le attività umane è la presenza dei cetacei l'azienda sanitaria provinciale di Catania ha riorganizzato l'attività del centro unico di prenotazione il CUP da lunedì prossimo 15 aprile il numero verde 895 44 14 per la prenotazione di visite ed esami specialistici presso gli ambulatori dell'ASP sarà operativo da lunedì dalle 8 alle 19 lo rende noto la stessa azienda sanitaria ancora aperta la partita per le candidature alle prossime europee ma a poco meno di due mesi dalle elezioni arrivano già le prime ufficializzazioni di questo parleremo questa sera all'intervista con il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso di Fratelli d'Italia in campo per un posto al Parlamento di Bruxelles gli accordi per la scelta dei nomi e le fibrillazioni interne al partito ma anche la candidatura con la lega dell'europarlamentare uscente Raffaele Stancanelli storico esponente della destra italiana e le sfide importanti che dovrà affrontare il prossimo Parlamento europeo collegato in diretta il collega di Radio Cuore Umberto Triolo appuntamento alle 20.30 dopo il Tg replica domani alle 23 e adesso ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco rieccoci in diretta il momento del meteo Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani giovedì 11 aprile il cielo presenta delle velature su tutta l'isola ma essenzialmente sarà sereno i venti deboli ma ricambi le temperature sul capoluogo etneo minima e massima rispettivamente di 13 e 22 gradi la temperatura più alta però è prevista a Siracusa dove si toccheranno i 24 gradi mentre le più basse nell'entroterra in particolare tra Enne e Caltanissetta dove sono previsti 4 gradi centigradi è tutto per questa prima edizione noi vi ringraziamo e rinnoviamo l'appuntamento a questa sera alle 19.45 grazie e buon proseguimento di pomeriggio